Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisi. In apertura vogliamo fare gli auguri di buon compleanno ad un amico storico della redazione sportiva di Telemolisi. Si tratta di Donato Tronca, nostro amico di Riccia, che proprio oggi festeggia il suo compleanno. A Donato, che è un grande appassionato di sport e di calcio, in particolare alla moglie Pierina, ai figli Valentina, Antonella e Michele, vanno davvero gli auguri più sinceri da parte mia e da parte di tutta la redazione sportiva di Telemolisi. Adesso il calcio di Lega Pro. 25.00 giornata in Lega Pro. Domani alle 14.30 si giocano Turris Catania e Bibonese Paganese alle 17.30, in Campobari Messina, Campobasso Palermo, Casanzaro Avellino, Foggia Fidelis Sandria, Francavilla Potenza, Juve Stabia Latina, Monterosi Taranto e Picerno Monopoli. Siamo alla vigilia di Campobasso Palermo. Domani squadra al completo per mister Cudini, recuperati, squalificati e infortunati. Cudini dovrebbe varare un Campobasso simile a quello che ha vinto ad Andria in difesa a discrete certezze legate ai rientri di Menna e Dalmazzi. Pure pace potrebbe tornare a far parte dell'undici titolare. Il tecnico è solito preservare Tengorang e tenerlo come asso nella manica nel caso la partita dovesse richiederlo, così a centrocampo non dovrebbero aversi grosse modifiche. Spazio a Candelori, Bontà e Persia. In attacco sei nomi per tre posti, grande scelta per il tecnico Cudini che potrebbe confermare Emmausso fra i migliori dell'ultimo periodo e Mercai, rapido ed efficace il suo inserimento. A proposito di Emmausso, questi ha voluto stemperare i toni rispetto ad una coda polemica. Ha avuto a fine gara con i tifosi del Taranto, il giocatore ex di turno ha voluto salutare sui social la piazza Tarantina che, parole di Emmausso, ha fatto parte della sua crescita personale. Il Palermo giunge in Molise con un 4-2-3-1 in porta Pelagotti, in difesa da destra Buttaro, Somma, uno fra Marconi o Perrotta e a sinistra uno fra Crivello o Giron. I mediani dovrebbero essere De Rose e Damiani, mentre i tre a supporto dell'attaccante Valente, Luperini e Floriano, con l'opzione Soleri da non trascurare e inquadrato da Baldini come seconda punta. L'attaccante di riferimento sarà Brunori, in ballottaggio per entrare fra i titolari Matteo Felici, appena girato in prestito dal Lecce al Palermo. Il neotecnico dei Rosanero Silvio Baldini, originario di Massa, Si è guadagnato le cronache sportive nel corso degli ultimi anni, non solo per le sue esperienze sulle panchine di Empoli, Parma, Lecce e Catania nella massima serie, ma anche per la sua scelta di allenare gratis la Carrarese. Un fatto singolare che ha reso Baldini un allenatore personaggio. Per il tecnico toscano, Palermo è stato un ritorno a distanza di quasi 19 anni dall'ultima volta. Il Campobasso proverà ad approfittare dei punti deboli di una squadra certamente forte, non semplice da bucare, solo 18 gol al passivo, ma che ha delle amnesie non trascurabili. È successo mercoledì contro il Messina, ma anche in casa contro l'Avellino, oppure a Picerno o a Latina, dove i Rosanero sono andati incontro a delle sconfitte mal digerite dall'ambiente. Proprio quella di Latina è costata il posto a Giacomo Filippi. All'andata fu 3-1 in favore del Palermo con il Campobasso, che dopo un inizio traumatico riuscì a riassestare il match, ma non a pareggiarlo. Bontà infatti sciupò un calcio di rigore. Dalle 17.30 domani a Selvapiana, Campobasso-Palermo verrà diretta dal signor Longo Di Paola. Basket femminile di serie A1. Diciannovesima giornata nel massimo campionato femminile. Oggi alle 17.00 Dinamo Sassari-Virtus-Bologna, alle 19.00 Umana-Rayer-Venezia-Faenza, alle 19.30 Schio-Ragusa, alle 20.30 Empoli-Lucca-San Martino di Lupari-Sesto-San Giovanni, la Molisana-Magnolia-Basket Campobasso-Broni, il posticipo del 17.00 di febbraio alle ore 20.00 è Costa-Masnaga-Moncalieri. La Molisana-Magnolia-Basket Campobasso, dopo oltre 50 giorni e dopo due K.O. esterni, torna con il favore del campo. Alle 20.30 alla Molisana Arena arriverà Broni, che in 15 gare disputate ha conquistato solo tre referti rosa. Per il mini-basket sono riprese le attività della cestistica e del Cus Molise, con il responsabile Mario Greco, che ha tracciato un bilancio sul ritorno in campo. Mario Greco, responsabile del mini-basket al Cus Molise, è ripartita l'attività dopo le festività natalizie. Come sta andando? Sì, l'attività è ripartita, a piccoli passi, siamo contenti del ritorno dei bambini in palestra e siamo soddisfatti della fiducia che i genitori ci danno in questo periodo particolarmente delicato. A proposito del periodo delicato, come si svolge il lavoro e com'è la gestione dei gruppi vista la pandemia in atto? Sicuramente in questo periodo dobbiamo apportare degli adattamenti alla didattica, dobbiamo essere bravi a mantenere alto il bisogno e la motivazione dei bambini al gioco, soprattutto fare attenzione a uno degli aspetti molto importanti del mini-basket che è la relazione, la relazione con i bambini, la relazione con il gioco e con gli esiti. Gli istruttori devono essere bravi ad adeguare le proprie proposte, mantenere alto la motivazione dei bambini, il loro senso di autonomia, di autostima, il percepirsi competenti è un aspetto al quale dobbiamo fare grossa attenzione in questo momento. Attività sul campo e promozione sul territorio, partirà un corso per gli istruttori di mini-basket, quali le novità al riguardo? Sì, questo è un aspetto molto importante per la nostra regione, io personalmente ho il privilegio, l'opportunità di essere il docente del corso, partirà il 24 febbraio con una modalità mista, ci sarà una parte online, una parte pratica, tanti giovani si avvicinano e questo ci dà molta carica, sono le nuove disposizioni del nuovo presidente amorosa, con uno staff che vuole ripartire proprio dal mini-basket, proprio dai più piccoli, quindi comunque non vediamo l'ora di iniziare e di dare il giusto ricambio generazionale a questa regione e motivare sempre di più i nuovi istruttori all'approccio con i bambini in maniera seria, ma mantenendo anche l'aspetto del divertimento che non deve mai mancare. Adesso il calcio a 5. Sedicesimo turno nel girone C della Serie A2, si è giocata ieri Benevento Pomezza, terminata 3-1. Oggi in campo Pescara-Roma, Lazio-Nord-Ovest, Pussal-Cisterna-Tombesi, Attivity Network-Italpol, Cusmo-Lise-Sporting-Sala-Consilina-Riposa-Mirafin. Nel girone G della Serie B questo è il programma, Mirto-Chaminad, Città di Potenza-Castellana-Diaz-Canosa, Palo del Colle-Itria-Torre Maggiore-San Michele-Senise-Sporting-Venafro-Riposa-Il-Bitonto. Veniamo ai tornei regionali di Serie C1, raggruppamento A, Aesernia-Fraterna-Caraceno-Fuzzal-Coglio-Albolturno-Venafro-Sestese-Miranda-Castell-Del-Giudice-Rocca-Ravindola-Riposa-Il-Boiano. Chiudiamo con il girone B. Iumenes-Termoli-Frenter-Larino-Chemarin-Mona-Cilioni-Sporting-Campobasso-Arcadia-Termoli-Fuzzal-San-Severo-Maffalda-San-Martino-Porto-Cannone. Campionato di Serie D, vediamo il programma delle gare. Diciannovesimo turno nel girone F di Serie D. Fano-Castellano-Vomano è stata rinviata. Si giocano domani Piugi-Chieti-Arora-Alto-Casertano-Tolentino-Nereto-Mantese-Portodascoli-Castelfidardo-Pinetto-Montegiorgio-Recanatese-San-Benedettese-Trastevere-Notaresco-E-Vasto-Girardi-Vastese. Alditella, sono in programma i 90 minuti tra Vasto-Girardi e Vastese. C'è grande attesa per il quasi-derby che si giocherà domani al Ditella tra il Vasto-Girardi e l'Avastese, gara terminata sul punteggio di 1-1 nel gironi di andata. L'Avastese, reduce dal pareggio interno contro il Fano e che si è vista interrompere a 5 la propria striscia di vittorie consecutive, domani è attesa da un altro match tanto difficile quanto importante, una sorta di test di verifica delle ambizioni dei Biancorossi, che al momento si trovano in sesta posizione, ad appena due punti dalla zona play-off. Le due formazioni, a sole tre lunghezze di distanza, hanno chiuso il girone di andata in modo brillante. 28 punti per gli abruzzesi, 25 per i molisani. Classifica la mano, le due squadre stazionano oggi nella zona alta della graduatoria. E se per la formazione di mister D'Addario la voglia di essere una delle protagoniste indiscusse del girone F è stata chiara sin dall'inizio, per il vasto Girardi, partito con ben altri obiettivi, la grande sorpresa è stata la capacità di dimostrare domenica dopo domenica il proprio valore, giocandosela alla pari con tutti gli avversari, conquistando punti in casa e in trasferta. Risultati raggiunti attraverso ottime prestazioni, tanto che ad oggi la salvezza sembrerebbe essere in cassaforte. La squadra altomolisana ha dato il via al girone di ritorno, conquistando un ottimo punto in casa del Castelfidardo, piccola realtà calcistica marchigiana, presente ormai nel panorama dilettantistico da diversi anni. L'obiettivo è quello di non interrompere la striscia positiva portata avanti dallo scorso 19 dicembre. Nelle ultime quattro gare giocate, infatti, compreso il recupero con il Trastevere, il vasto Girardi ha conquistato ben 10 punti. Ed a proposito di recuperi, la diciassettesima giornata di andata contro il Castelnuovo Vomano dovrebbe giocarsi regolarmente mercoledì prossimo 9 febbraio. Le successive due giornate poi, contro Matese prima e Notaresco poi, metteranno a dura prova la truppa di Mister Prosperi, chiamata a fare conti con squadre bisognose di punti per il raggiungimento dei propri obiettivi e pronte a vender cara la pelle. Per la giornata di domani il tecnico giallobru Prosperi non dovrebbe operare grossi cambi, dando nuovamente fiducia all'undici visto in opera una settimana fa nelle Marche. In Porta di Stasio, difesa composta da Montuori, Minchillo, Secondo e Capitan Ruggieri. Al centro del campo Guadalupi, Alagia e Irace agiranno da filtro e a supporto del tridente composto da Prado, Salatino e Guida, con quest'ultimo che vanta 15 reti all'attivo. Con un gran lavoro svolto nelle ultime ore da una squadra di volontari, il Ditella è stato liberato dalla neve caduta nei giorni scorsi sul comune Alto Molisano. Con fischio d'inizio alle 14.30, Vasto Girardi Vastese sarà diretta dal signor Gabriele Zangara della sezione di Catanzaro, assistenti Luigi Ferraro di Fratta Maggiore e Luca Chianese di Napoli. L'FC Matese, dopo un doppio turno interno che ha fruttato due punti, torna in trasferta. Domani i ragazzi di Urbano saranno a Nereto. Nereto Matese sarà la terza gara in sette giorni per la compagine di Piedimonte. Dopo due sfide casalinghe ravvicinate, domani i Verde Oro viaggeranno alla volta della provincia di Teramo, focalizzati a centrare il bottino pieno. Nel recupero di mercoledì, gli undici di mister Corrado Urbano hanno pareggiato 2-2 contro il Trastevere, grazie alla rete segnata di testa al sedicesimo del primo tempo da Napoletano e poi decisivo il destro di Ricamato a tre minuti dalla fine. Un risultato che, dopo l'1-1 di domenica scorsa contro il Porto d'Ascoli, smuove ancora la classifica, ma che sta stretto alla squadra Matesina, che ha lottato con grande determinazione e creato numerose occasioni da gol. La stessa prestazione sarà necessaria nella trasferta di Nereto, squadra impelagata nei bassi fondi della graduatoria, e che, dopo le sconfitte nei due derby contro Chieti prima e Nereto dopo, è ferma a 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e 13 sconfitte, ad oggi a rischio retrocessione. Mister Urbano schiererà i suoi con un 4-3-3, con Martino confermato a difendere i pali, era in campo anche contro il Trastevere, dinanzi a lui, come di consueto i centrali Congio ed Albanese, con setola sulla sinistra e dall'altro lato esordirà il neo-arrivato Ziska, Polacco, classe 2003, in prestito dal Cosenza. Centrocampo affidato a Ricamato, Ricciardi e Fabiano, a completare l'11 anti Nereto, gli attaccanti Tribelli, Galesio e uno tra Iannetta e Langellotti. L'intera squadra dell'FC Matese è proiettata a raggiungere al più presto la quota salvezza, che passerà anche per il comunale di Nereto, dove le due avversarie si affronteranno a partire dalle 14.30 e sotto la direzione di Stefano Foresti di Bergamo. Nuoto sono tornati in vasca per la Coppa Parigi gli atleti dell'H2O Sport. Nel settore femminile, grandi prove di Marta De Paola, che ha portato a casa il primo posto nei 100 e 200 farfalla. Affermazione di qualità e sostanza per Camilla Stinziani nei 400 misti. Soddisfazioni anche per la società, naturalmente, del presidente Tucci. sono arrivate dal settore maschile con Vincenzo Palladino, che è risultato essere il migliore atleta del gruppo. Il prossimo fine settimana è in programma la mezza maratona provincia di Isernia, città di Venafro. Ai nostri microfoni Agostino Caputo, presidente della Nuova Atletica Isernia. Agostino Caputo della Nuova Atletica Isernia. Attendete con fervore, possiamo dire così, questa manifestazione half marathon del prossimo 13 febbraio? Eh sì, in effetti attendiamo, ma noi ci siamo buttati in questa organizzazione, che è un evento che in regione è unico come gara di mezza maratona, sono 21 chilometri e 97 metri, è una distanza classica molto amata dai potisti. In regione non si fanno più attività, cioè corse su strada di questo. La mia posizione di delicato provinciale Fidal mi dà anche la possibilità di cercare di promuovere le manifestazioni su strada, su pista, insomma voglio dire, di promuovere l'attività. Quindi ho pensato alcuni mesi fa di coinvolgere l'amico Massimiano Terracciano dell'Atletica Venafro e organizzare questo evento, questa mezza maratona, che è abbastanza impegnativa sia come percorso che come organizzazione in sé per sé. Noi abbiamo previsto 500 atleti, ad oggi, oggi è l'ultimo giorno per l'iscrizione a 15 euro, già siamo a 500, quindi supereremo penso la quota di 500. Come prima edizione siamo contenti di come sta andando, ringraziamo gli enti preposti che ci hanno dato le varie autorizzazioni e gli sponsor che hanno chiaramente contribuito alla messa in opera di questo evento. Per i primi 500 iscritti ci sarà anche un pacco cara? Sì, noi infatti abbiamo fissato un limite di 500 iscritti, quindi per il pacco cara. Poi dopo, magari, vediamo, in questa settimana, se assumono i parecchi, casomai cercheremo eccezionalmente di farle pure per gli altri. Però l'importante è che abbiamo avuto una bella risposta. Perché? Perché il territorio di Venafro si presta innanzitutto a questo tipo di manifestazioni, di gare e agonistiche, perché è tutto pianeggiante. E poi anche perché l'Atletica Venafro, quindi del presidente Terracciano, è un'associazione molto impegnata sul percorso. Loro frequentano molto le corse su strada nella campagna e quindi sono molto conosciuti. Quindi questo mix di esperienze. Noi, come NAI e Nuova Atletica Isernia, mettiamo l'esperienza nostra e che dell'organizzazione della Corrisernia mi sono interessato un po' più della parte economica, logistica e burocratica. Mentre Terracciano si sta interessando della parte pratica dell'evento. Sì, quindi non resta che divulgare soprattutto l'invito. Ricordiamo, ci sarà una presentazione tramite conferenza stampa qualche giorno prima. Sì, faremo la conferenza stampa alla Palazzina Liberty a Venafro il 10. Il 10 alle ore 11. Abbiamo invitato chiaramente l'autorità e tutti gli atleti, tutti coloro che si troveranno per presentare ufficialmente l'evento. Presenteremo anche qualche atleta top runner che stiamo cercando di scrivere che si iscriverà sicuramente e daremo poi tutti i dettagli per quanto riguarda la logistica. Verrà tutta davanti al Benafro Palace Hotel sulla Statale 85. Ringraziamo il Benafro Palace Hotel per la disponibilità. La consegneremo ai pacchi cara, consegneremo i premi agli atleti e faremo anche le premiazioni nel giardino antistante. Quindi un grosso ringraziamento alle proprietà del Benafro Palace Hotel. Ringraziamo anche altri sponsor, tra questi, tra solo i biscotti, che è il nostro main sponsor, e la Faica Gioelli, che è il main sponsor dell'Atletica Venafro. Campionato d'eccellenza Tre gli anticipi in eccellenza, Campo Basso 1919 Cliternina, Campo di Pietra Venafro e Sesso Campano Limpio Agnonese. Il quadro si chiude domani con Caselli Sangro Boiano, Gambattesa Pietromontro Fiorvino, Isernia Orororo Ruri, Termoli Guionesi e Volturnia Altilia Samnium. A proposito delle gare in programma domani, il punto. Per il massimo campionato regionale si scende in campo per la diciassettesima giornata, seconda di ritorno. Sono cinque i match in programma domani, vediamo nel dettaglio. La capolista Termoli alla Cannas attende il Real Guionesi, secondo derby consecutivo per i giallorossi vittorosi una settimana fa sul campo dell'Auroro Ruri, per 3-2. In casa cercano altri tre punti per continuare la striscia positiva che dura da inizio stagione. Non sarà facile perché il Guionesi se in forma, come dimostra il netto, 3-0 al campo di Pietra e viaggiano verso Termoli con il morale alto. All'andata 1-0 per il Termoli si prospetta una partita avvincente che sarà diretta dal signor spedale della sezione di Palermo. Altro match di giornata molto interessante è quello che si disputa all'Ancelotto dove il città di Senna San Leucio Roccasicuro ospita l'Auroro Ruri. Bianco e celesti rinforzati dall'ultimo acquisto Soria. Centro di Ampista Argentino, classe 88, vuole continuare la rincorsa al vertice dopo la vittoria al fotofilici di sette giorni fa a Pietra Montecorvino con il gol di Negro. Ospiti che vogliono rifarsi dopo la beffa subita dal Termoli. Match equilibrato con favore dei pronostichi per Panico e Sochi. All'andata successo Ruri per 2-1. Isen Ruri è stata affidata al fischietto di Marco Aurisano nella lezione di campo basso. Terzo match in calendario vede la sfida tra il Castiel di Sangue e il Boiano. Locali femmine l'ultimo turno in campo per conquistare punti pesanti in chiave salvezza. Nove punti vuol dire penultimo posto ma le altre sono di poco avanti. Classifica molto corta in coda. Ospiti che con 22 punti sono a metà classifica ma vengono da capo interno per 3-1 contro il sesto Campano. Matesini che non conoscono mezze misure o vincono o perdono. All'andata netto 4-2 Biancorosso. Arbita il signore Matarrese di Termoli. La quarta sfida nel programma vede opporsi Gambatese e Pietra Montecorvino che si affondano al venditti. Verrà proprio sconto salvezza. Soltanto un punto le divide a favore di Capobianco e Sochi. Vetato sbagliare. Chi vince avrà un finale di stagione più tranquillo. Morale diverso per entrambe. Gambatesi reduci dal facile 5-0 contro Altiglia Samnium. Pugliesi beffati nel finale Naldisernia. All'andata successo Rosso Nero per 2-1. Arbitra Pasqua di Termoli. Chiudiamo con Volturnia-Altiglia Samnium. Altro match importante in chiave a salvezza. Ospiti ultimi. Locali terzultimi. Ultima spiaggia per entrambe. Locali che vogliono sfruttare il fattore casa e centrare 3 punti per rimanere in scia al 19-19. Ospiti che con una sola vittoria su 16 partite sono quasi condannate alla retrocessione. Pronostico per il Volturnia che Nella partita d'andata si impose per 4-1. Dirige il signor Ferrara della sezione di Sernia. Ricordiamo infine che per tutti i match il fischio di Niso è fissato alle ore 15. Scendiamo nel campionato di promozione. Diciassettesimo turno anche in promozione. Quattro le gare di oggi. Juveness, Aisernia Fraterna, Campo Marino Trivento, Don Chessagnone Maronea, Virtus Gioiese, Baranello domani, Petacciato Termoli 2016, Spinete, San Pietro in valle, Torre Maggiore, Ripalimosani e Turris, Guardia Alfiera. Turno perfettamente diviso a metà. Per la diciassettesima giornata di campionato il quadro risulta perfettamente diviso in due. Quattro le sfide di questo pomeriggio e altrettante le gare che si giocheranno domani. I primi a scendere in campo, Spinete e San Pietro in valle. Partita avvincente. Per la squadra di Marco Palazzo non sarà facile strappare i tre punti. Dovrà confrontarsi con uno Spinete in ripresa. Infatti se la capolista è reduce da un pareggio che ha permesso comunque di mantenere la vetta della classifica in quadrupla con partecipazione, i padroni di casa invece continuano a salire grazie alla vittoria sul difficile terreno di gioco della Maronea. Spinete e San Pietro in valle sarà gestita da Francesco Di Domenico della sezione di Isernia. A San Giuliano di Puglia a sfidarsi ci saranno Turris, Guardia Alfiera. I bianco-azzurri di Mister Precali puntano al rientro nel torneo di eccellenza. A testimoniarlo anche l'arrivo del portiere De Laurentiis e del centrocampista Vatavu. Per il Guardia Alfiera non saranno 90 minuti semplici. Per il secondo weekend consecutivo dovrà vedersela con una capolista dopo la sconfitta di misura in casa della Virtus Gioiese. Arbitro di giornata Fabrizio Simonelli di Isernia. Terzo incontro e anche derby Polis Petacciato Termoli 2016. Entrambe le formazioni stanno disputando al momento una stagione molto positiva. Ovviamente la loro speranza è quella di ricongiungersi con le prime della classifica. Se per il Petacciato l'obiettivo non è così lontano, visto la distanza di soli tre punti ed il recupero di mercoledì a Ripalimosani, queste due gare li potrebbero consegnare la vetta solitaria. Per il Termoli non sarà un'impresa facile ma non impossibile. Per la squadra di mister Lallopizzi è da valutare anche il recupero di aceto tra i pali attualmente infortunato. Per la gara è stato designato Daniele Picciucco di Campobasso. Il quadro per questa seconda giornata di ritorno si chiude con Atletico Torre Maggiore Ripalimosani. Stagione iniziata male e continuata peggio quella del fanalino di coda ovvero per i padroni di casa ultimi con soli sette punti insieme ai Don Chessagnone. Obiettivo comunque dei pugliesi è cercare di conquistare i primi tre punti. Vittoria che porterebbe la squadra a svoltare la classifica. Per i ragazzi del Ripalimosani questa sarà la prima sfida di questo 2022 poiché la partita valevole per la prima giornata di ritorno è stata rinviata a causa neve e adesso si disputerà come recupero nella giornata di mercoledì prossimo. a dirigere Torre Maggiore Ripalimosani Daniele Iuliano della sezione di Termoli. Squadre in campo in contemporanea alle ore 15. Adesso le grafiche di prima e seconda categoria. Quattordicesimo turno nel girone A della prima categoria Quercus Maior Cerce Pozzilli Roccaravindola Montenero Boes Campobasso Carpinone Campobasso Calcio Cerce Casallo Matese Macchia Godenese Real Casares Forlum Real Prata Boes Verano Audax Pietra Melara Ala Fidelis Girone B Audax Toro Polisportiva Calena Real San Martino Castel Mauro Calcio Casali Downy Locomotive Riccia Fiammalarino Volturino Macchia Fortore Sant'Angelo Limosano Matrice Angioina Colletorto Montenero Bicari e Fortore Real Gildone Seconda categoria Girone Anono Turno Atletico Mignano Rufri Presenzano Carovilli Olimpi Chisarnia Santa Capito Monte Roduni Paonas Real Petoranello Longano Calcio Fornelli Bis Castel Petroso Villa San Michele Pesco Lanciano Girone B Boes Morcone Oratino Chaminade Busso Morcone Calcio Mirabello Calcio Armestoro Roseto Fossaltese Sant'Angelo Sant'Eliana e Salcito Tufara Girone C San Giorgio Difesa Grande Porticone Frentania San Giovanni Ingaldo Munksufuni Porto Cannone Ripa Bottoni Fiamma Folgore Sporting Club Nuoto Rocca Vivara e Riposa la Polisportiva Guionesi Vi ricordo gli appuntamenti con lo sport a parte naturalmente il telegiornale di questa sera dove faremo naturalmente i servizi sugli anticipi che ci sono nel pomeriggio ebbene domani alle 14.30 a tutto campo in studio Benedetta Fazio Gabriella Laurelli collegamenti con i campi dove giocano le squadre molisane alle 18 domani pomeriggio anzi prima delle 18 alle 17.15 Rosso Blue Goal visto che il campo basso inizierà la sua partita contro il Palermo alle 17.30 quindi alle 17.15 Rosso Blue Goal con Luigi Di Lallo poi naturalmente ci saremo anche noi di Domenica Sport a partire dalle 18 vi segnalo anche gli highlights della domenica praticamente i gol realizzati la domenica domani sera a partire dalle ore 22 bene è tutto buon fine settimana l'anno l'anno